Il Consiglio Comunale di Pescara ha approvato a maggioranza la delibera sulla variazione di bilancio. Una manovra finanziaria pari a quasi 2 milioni di euro che, grazie al recupero dei gettiti ICI sulla prima casa e ai rimborsi delle spese sostenute per la gestione del Palazzo di Giustizia, permetterà al governo cittadino di far fronte a spese improcrastinabili come i consumi di energia elettrica e il pagamento dell'intervento di rimozione della sabbia dragata dal porto turistico, ma anche spese per impianti sportivi e scuole. Un atto, ha detto l'assessore alle finanze Eugenio Seccia, che ci permette di restituire pieno equilibrio ai conti dell'ente che, in occasione del bilancio di previsione, ha dirottato buona parte delle proprie risorse sul sociale. Complessivamente, ha spiegato Seccia, parliamo di una manovra pari a 1 milione 916 mila euro, derivante tra l'altro per 300 mila euro dall'avanzo di amministrazione del 2010 che possiamo utilizzare in quanto abbiamo approvato anche il conto consuntivo. 200 mila euro di addizionale comunale IRPEF, 665 mila 635 euro dal gettito delle partite arretrate del lici sulla prima casa, 498 mila 327 euro quale contributo dello Stato nelle spese per gli uffici giudiziari e 60 mila euro dai canoni di locazione degli alloggi di proprietà comunale. La delibera, approvata oggi con i 21 voti della maggioranza di centrodestra, ci ha permesso, ha concluso Seccia, di restituire pieno equilibrio ai conti dell'ente che a inizio anno avevano dirottato i propri investimenti sul sociale.